E' importante avere ben chiaro qual è il proprio obiettivo e giocare le mosse di conseguenza senza distrarsi, quindi senza giocare delle mosse che non sono conseguenti all'obiettivo e possibilmente senza dare la possibilità all'avversario di distrarci, cioè di tenerci impegnato in altre attività. Allora, vediamo in questa posizione, ovviamente l'obiettivo principale del bianco è quello di colpire la pedina avversaria e poi di costruire un prime per contenerla oppure di blizzarla. Vediamo un po' che cosa ho pensato in partita. Ok, è uscito, devo sperare di colpire, colpisco e questo è un 3 direi. Ok, diciamo che non ho ragionato sul 3. E' chiaro che, posto che l'obiettivo è quello di costruire il prime, quindi comunque un obiettivo d'attacco, se io gioco il 3 splittando i miei runner, do alcune possibilità all'avversario di impegnarmi nella sua casa interna. Pensiamo ad esempio ai joker tipo W2, W1, che sono disastrosi addirittura. E comunque in ogni caso, anche colpendo una delle due pedine, mi tiene impegnato e mi impedisce o mi rende più difficile raggiungere l'obiettivo principale. Detto questo, è abbastanza evidente che la mossa migliore è tenere l'ancora e giocare il 3 dal 13, quindi 13-10. Possiamo vedere che, infatti, la mossa che ho giocato io è un blunder da oltre 200. Blunder dovuto al fatto che non ho pensato minimamente a qual era il mio obiettivo reale e quindi non ho giocato di conseguenza. E questo è un errore grave. Spero di ripeterlo il meno possibile.